È arrivato il momento di mantenere la promessa che ti feci nei giorni dell'infanzia. Toki, perché lo vuoi fare? Perché voglio superarti, fratello. No, fin da bambino non hai mai smesso di rincorrerne. Il destino che ci unisce finirà qui. Adesso! Adesso basta. Smettila, Toki. L'unico guerriero che nonostante sia gravemente malato è riuscito a far scorrere il mio sangue. Toki, nonostante il tuo talento sconfinato non stai morendo a causa mia, ma per colpa dell'abominevole male che affligge il tuo corpo, un uomo di Okuto che ha perso tutto per una causa indegna come una malattia. Perché stai piangendo, Raui? Non avevi abbandonato per sempre le lacrime. Ricorda che avevi intimato anche a me di fare la stessa cosa. Contrattata La luna La luna La luna